Blitz antimafia della direzione distrettuale antimafia del comando provinciale dei carabinieri di Caltalissetta arrestato a San Cataldo il titolare di un'agenzia di onoranze funebri. I morti anche tuoi, malebare le corone di fiori mie. Il presunto racket del caro estinto sarebbe dilagato come la chiazza di petrolio del fiume Lambro lungo il Po se i carabinieri del comando provinciale di Caltalissetta non fossero intervenuti in tempo. Infatti lui è Diego Calì, inteso Dino, ha 57 anni ed è di San Cataldo, è stato arrestato, risponde di associazione mafiosa e detenzione di armi. Diego Calì è un imprenditore, non dell'edilizia e nemmeno dell'energia eolica. Lui si occupa di onoranze funebri, tutto l'occorrente per i funerali, tre punti vendita a San Cataldo. Ebbene, secondo i carabinieri e i magistrati della direzione distrettuale antimafia nissena, capeggiata da Sergio Lari, Diego Calì, aggrappandosi con una mano a Cosa Nostra, avrebbe imposto con l'altra mano il lepugno delle monopolio nel settore delle casse da morto. L'arresto di Diego Calì è l'appendice dell'intestino delle blitz antimafia del 28 dicembre scorso, quando ancora la procura e i carabinieri nisseni hanno arrestato 11 presunti mafiosi. Il gruppo degli undici è stato ammanettato poco prima che fosse commesso l'omicidio di Stefano Mosca, 44 anni, di San Cataldo, titolare di un'agenzia di pompe funebri, e nipote del presunto boss del paese, Salvatore Calì, ucciso il 28 dicembre del 2008, e anche lui titolare di un'agenzia di onoranze funebri. Il leblitz del 28 dicembre 2009 ha svelato un arsenale di armi e munizioni. Eccolo nella foto. Nascosto qui a Sommatino, in Contrada Mintina, nel cassolare di campagna dei pastori, Gioacchino e Salvatore Mastro Simone. I due sono stati arrestati insieme al presunto capo clan, Cosimo Di Forte, di San Cataldo, poi Patrizio Calabro, di Sommatino, Liborio Gianluca Pillitteri, di Sommatino, Enzo Mancuso, di Canicattì, Maria Indorato, di Sommatino, Giuseppe Taverna, di Barrafranca, Salvatore Lombardo, di Marialopoli, Calogero Ferrara, di San Cataldo, e Agata Cianci, di Sommatino, moglie di Salvatore Mastro Simone. Adesso, in occasione dell'arresto di Diego Calì, è stato scoperto un secondo deposito di armi, a disposizione del presunto clan di Forte. Fucili a canne mozze, pistole e migliaia di munizioni. Il tutto nascosto qui, interrato dentro un frigorifero, sotto un ponte lungo la statale 190. Ancora nelle campagne di Sommatino, in Contrada Mintina. Grazie.